Si chiama Kristen Johnson ed è stata arrestata per aver fotografato i genitali di un suo paziente mentre egli era incosciente. La donna che lavora all'ospedale di New York avrebbe mortato nel suo smartphone le parti intime dell'uomo. Kristen ha ammesso le sue colpe come riporto delle news ma poi ha aggiunto che non ci sarebbe stato un motivo preciso per tale gesto. L'infermiera avrebbe fatto giretti sui contatti da scandalo d'immagine, il motivo per cui è stata sospesa. Kristen è stata sospesa dalla professione ed è stata messa poi però in libertà vigilata per i prossimi tre anni di tempo. Vi ringrazio per l'ascolto caratterizzati di YouTube, vi ringrazio per la gentile visione. Il video termina qua, queste cose sono veramente cose incredibili. Una risposta che a molti sarebbe risultata veramente spiazzante. Grazie a un salutone e da parte mia un augurio di un buon venerdì e quindi di un buon venerdì.